Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ufficiale. Davide Mazzocco è un nuovo giocatore del Foggia. Ecco tutti i dettagli. Innanzitutto ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi vi portiamo una notizia fresca di calcio mercato. Il Foggia ha ufficialmente acquisito Davide Mazzocco, un centrocampista di grande esperienza, che si lega al club rosso-nero fino al 2026. Scopriamo insieme il percorso di questo giocatore, le sue prime parole in rosso-nero. Innanzitutto andiamo a vedere un attimo il percorso di Davide Mazzocco. Davide Mazzocco è un classe 95, è nato a Feltre, ha iniziato la sua carriera calcistica nel Monte Belluna e nelle giovani del Parma. Il suo esordio tra i professionisti avviene nel 2014 con il Padova in Serie B. Nel 2019 il suo cartellino viene acquisito dalla Sparca e lo cede in prestito prima al Pordenone e poi alla Virtus Santel. Successivamente nel 2021 passa al Cittadella, nell'ultima stagione ha giocato con l'Avellino e successivamente è stato in prestito a Latina. Durante la sua carriera Mazzocco ha accumulato un totale di 265 presenze tra Serie B e Serie C, segnando 21 gol e fornando 11 assist. Questi numeri dimostrano la sua costanza e il contributo importante che ha saputo dare alle squadre in cui ha militato. Le prime parole di Mazzocco e Rosonero si è detto entusiasta di questa nuova avventura con il Foggia e nelle sue prime dichiarazioni ha sottolineato quanto sia motivato e pronto a dare il massimo per il club. Ho risposto subito presente alla chiamata del Foggia, sono determinato e pronto per iniziare questa nuova avventura in una piazza che conosco per passione e calore. Con l'arrivo di Davide Mazzocco il Foggia si assicura un centrocapista di qualità ed esperienza, non vediamo l'ora di vedere il suo contributo in campo. Se volete restare aggiornati su tutte le novità del Foggia Calcio e del calciomercato lasciate un like ma soprattutto iscrivetevi al canale per supportare il nostro lavoro. Commentate qui sotto con le vostre opinioni sull'arrivo di Mazzocco e attivate la campanella per non perdere i nostri prossimi video. Grazie!